Non è stata una partita semplice, sapevamo che il Palermo è una squadra ben organizzata che aveva individualità molto importanti come appunto Di Mariano dalla mia parte ma anche tutto il resto della squadra. In settimana comunque l'abbiamo preparata bene, siamo riusciti ad uscire molte volte col possesso palla e quindi credo che abbiamo fatto comunque una buona partita sia in fase di possesso anche di non possesso. Sicuramente era un punto importante perché come detto già in precedenza la squadra contro cui giocavamo in Palermo è una squadra importante che sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà, infatti hanno fatto di tutto per provare a vincere anche loro è un punto che in classifica pesa appunto per raggiungere questo obiettivo è stato importante e adesso ci prepariamo per la partita al prossimo fine settimana. Io penso che le idee del mister sono sempre le stesse poi quando si scende in campo insomma da dove vengono le situazioni dove c'è più spazio si spinge di più ecco.